lunedì tre aprile buongiorno Friuli e bentrovati in nostra compagnia per questo nostro primo appuntamento del mattino che inizia come sempre dando un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di oggi vediamo cosa ci dicono gli esperti dell'osmerarpa oggi al mattino probabilmente avremo cielo sereno in giornata variabilità e non è esclusa qualche locale debole pioggia o isolato rovescio più probabile sui monti le temperature vediamo minime di 7-10 gradi in pianura 13-15 gradi sulla costa e massime che anche oggi raggiungeranno i 23-25 gradi in pianura qualche grado in meno 18-21 gradi di massima invece sulla costa salendo in quota vediamo una temperatura media di 11 gradi a 1000 metri più 4 a 2000 metri di altitudine uno sguardo veloce anche la situazione viabilità sulle principali arterie autostradali della nostra regione vediamo che al momento la situazione è tranquilla per quanto riguarda la tratta della A4 presente in Friuli Venezia Giulia e allora cominciamo la nostra rassegna stampa siamo pronti per andare a vedere assieme le prime pagine dei quotidiani nazionali innanzitutto l'apertura del Corriere della Sera ci porta in Nord Corea lo strappo di Trump titola il Corriere il presidente prima dell'incontro con Xi Jinping su Brexit l'Europa ha lavorato bene agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang arriva un altro avvertimento dal presidente americano Donald Trump alla Corea del Nord agiremo da soli se la Cina non ferma le minacce nucleari di Pyongyang l'amministrazione statunitense evoca la possibilità di un attacco preventivo gli scenari sono molti tutte le opzioni sono ora sul tavolo mentre gli occhi della comunità internazionale sono puntati su un possibile nuovo test nucleare entro pochi giorni il Pentagono ha intanto potenziato lo scudo militare poi il presidente prima dell'incontro con Xi Jinping come abbiamo già letto anche nel titolo di apertura del Corriere ha detto su Brexit l'Europa ha lavorato bene e poi a centropagina questa fotonotizia che ci arriva da Amatrice vediamo il principe di Galles Carlo tra le macerie di Amatrice l'impegno di Carlo tra le macerie il principe di Galles Carlo erede al trono britannico in visita fuori protocollo ad Amatrice ferita dal terremoto che terribile devastazione esclama di fronte alla chiesa di Sant'Agostino dopo un omaggio alle vittime del sisma ha promesso faremo qualcosa di concreto e poi per quanto riguarda la politica vediamo in questo articolo i risultati delle votazioni nei circoli del partito democratico le votazioni alle mozioni dei tre candidati alla segreteria del PD nel PD Renzi stacca Orlando Emiliano Cè sfida sui votanti Renzi ha il 68,2% dei consensi segue Orlando 29,6% poi Michele Emiliano 8% il 30 aprile le mozioni dei tre candidati verranno sottoposte al voto delle primarie cambiamo quotidiano andiamo sulla prima di Repubblica c'è la cronaca in apertura su Repubblica con la notizia del barista di Bologna ucciso da un rapinatore barista ucciso per rapina un killer senza pietà e caccia all'uomo in Emilia il sindaco ha detto non si può vivere nella paura Davide Fabri 52 anni è stato ucciso sabato sera con un colpo di pistola nel bar Tabacchi che la famiglia gestisce da decenni a Budrio 20.000 abitanti nella pianura bolognese ha reagito a un tentativo di rapina il ladro ha volto coperto e in tutta mimetica gli ha esploso un solo colpo al petto e poi è fuggito è fuggito senza portare via un euro adesso è caccia all'uomo tra i campi l'urlo della moglie dove era Dio il governatore della regione Stefano Bonaccini dice non possiamo vivere nella paura la sicurezza è un dovere anche per la sinistra e nel paese ora tutti si interrogano su chi possa aver compiuto un gesto simile e poi ancora andiamo a vedere anche su Repubblica per la politica Partito Democratico nei circoli vince Renzi ma sui voti è lite e ancora a centropagina vediamo anche la fotonotizia di Repubblica a Teheran in bici contro i pregiudizi il diario di Rebecca da Londra all'Iran dice l'Islam non è fanatismo chiudiamo anche Repubblica una carrellata veloce sui titoli di apertura degli altri quotidiani andiamo sul giornale che titola così Emergenza rapine Far West di Stato la politica non garantisce la legittima difesa intanto un altro commerciante viene ammazzato da un delinquente fate presto questa l'apertura del giornale andiamo anche su Libero ecco il titolo in apertura c'è sempre la notizia del barista ucciso da un rapinatore vicino a Bologna i criminali vincono ancora titola Libero pochi giorni fa il PD ha bocciato la legge della Lega che ampliava il diritto di legittima difesa a vantaggio di una norma più garantista verso i ladri ieri un assassino ha ucciso un padre di famiglia disarmato nella sua tabaccheria e ferito i clienti chiudiamo anche Libero e andiamo adesso a vedere la prima pagina del fatto quotidiano il titolo di oggi è nasce il PDR il partito di Renzi affluenza ai minimi Matteo sopra al 60% Orlando al 25% Emiliano all'8% il ministro della giustizia denuncia tessere gonfiate ma non fa ricorso nel voto dei circoli PD primo round delle primarie tutto come previsto crollo dell'affluenza ai seggi dice il fatto quotidiano e poi ancora vediamo a centropagina una storia di copertina particolare quella di questo lunedì dedicata a Totò carissimo Totò quanto ci manchi ma da 50 anni continuiamo a ridere il 15 aprile del 1967 moriva il principe della risata chiudiamo anche il fatto quotidiano e andiamo adesso a vedere anche la prima pagina del sole 24 ore che in apertura parla degli sconti e dei prestiti dalle casse per i giovani professionisti le misure di welfare introdotte dagli enti di previdenza per sostenere 150.000 colleghi under 35 anche bonus bebè e microcredito per chi inizia l'attività le casse privatizzate provano ad attrarre i giovani in fuga dalle libere professioni cresce il welfare integrato per gli iscritti under 35 che sono il 16% degli oltre 900.000 professionisti delle 13 casse monitorate andiamo a vedere anche la gazzetta dello sport vediamo anche un quotidiano sportivo in questa prima parte di rassegna l'apertura è dedicata al risultato dell'attesissima partita fra Napoli e Juventus finita in parità pari e a bracci scrive la gazzetta più Napoli che Juve al San Paolo finisce 1 a 1 apre Chedira pareggia Amsi che la squadra di Sarri gioca meglio ma non chiude la partita bianconeri troppo passivi la Roma ringrazia meno 6 dalla vetta e allunga al secondo posto mercoledì bis in Coppa sempre fra Napoli e Juventus e ora chiudiamo la gazzetta dello sport chiudiamo questa carrellata veloce sui quotidiani nazionali per spostare la nostra lezione e attenzione sui quotidiani locali su Messaggero Veneto Piccolo e Gazzettino questa è la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine che apre con la festa de Patrie dal Friul che si è celebrata ieri a Sappada Sappada riparte la sfida friulana Fieste de Patrie appello dei sindaci a Mattarella per il distacco dal Veneto andiamo subito pagina 2 e 3 dove troviamo tutto l'articolo che ci racconta come è andata questa festa ci riferisce anche gli appelli arrivati da esponenti politici ma non solo Sappada in Friuli riparte la battaglia appello dei sindaci a Mattarella affinché il senato si esprima Piller Hofer il sindaco di Sappada parla di una legge insabbiata contestato il governatore del Veneto di tutto e di più sul palcoscenico della Fieste de Patrie dal Friul svoltasi ieri a Sappada per sollecitare il voto del senato sul distacco dal Veneto ed il ritorno in Friuli insabbiamento un lungo fragoroso applauso come nessun'altra volta si è sentito in chiesa a Sappada quando il sindaco Manuel Piller Hofer con il mansueto decisionismo che gli è proprio ha monito il Parlamento a rispettare l'esito del referendum delle 2008 espressione della volontà popolare di Sappada di passare dal Veneto al Friuli Venezia Giulia e vediamo alcune immagini della festa ci sono state anche le parole del Presidente del Consiglio Jacop che ha detto sarà un tema della prossima legislatura c'è da rispettare la volontà popolare espressa attraverso un referendum e poi ancora anche le parole dell'Arcivescovo di Udine Monsignor Mazzoccato che ha detto l'identità è nell'anima della gente non abbiate paura dei profughi queste le parole di Monsignor Mazzoccato e poi Fontanini Presidente della provincia che bacchetta Zaia non è piaciuto il riferimento al presule prestato dai Veneti alla ricorrenza non c'era nessun primo cittadino del bellunese e poi ancora sempre per quanto riguarda la festa della patria del Friuli che di fatto si celebra oggi il 3 aprile la bandiera con l'aquila del patriarcato sarà esposta in regione ma torniamo in prima pagina adesso e andiamo a leggere anche le altre notizie ancora storie ancora racconti di risparmiatori rimasti traditi dalle proprie banche dalle ex popolari assemblea dei consumatori così con quel fido mi hanno rovinato nelle pagine interne poi abbiamo tutti i racconti vediamo subito la fotonotizia a centropagina che ci porta a parlare di divorzi e matrimoni il sorpasso più divorzi che matrimoni in chiesa in forte aumento le nozze civili e la diocesi corre ai ripari si pensa all'organizzazione di corsi per separati ecco il titolo dell'articolo in prima pagina andiamo a vedere se troviamo anche l'articolo nelle pagine interne altrimenti ritorniamo ad approfondire ecco tra poco troveremo l'articolo eccolo qua una doppia pagina dedicata appunto al tema ai numeri anzi dei matrimoni e dei divorzi l'anno scorso gli scioglimenti sono stati 67 contro 58 nozze religiose sono 202 le coppie che nel 2016 nel 2015 erano 197 hanno optato per un rito civile il sabato si arriva fino a 4 cerimonie e vediamo appunto le prime righe dell'articolo che dice uno storico sorpasso il numero dei divorzi nel comune di Udine ha superato quello dei matrimoni religiosi dei sì pronunciati in chiesa sono state 67 le coppie che nelle 2016 si sono dette addio davanti agli avvocati e agli uffici di stato civile a fronte delle 58 che sono convolate a nozze in chiesa insomma si fa prima a lasciarsi piuttosto che a giurarsi fedeltà reciproca davanti al sacerdote potere dei tempi che cambiano di una società che muta e soprattutto di una legislazione che ha reso più facili le rotture lampo e poi vediamo in quest'altra pagina tutti i numeri riguardanti i matrimoni civili anche le unioni civili vediamo i numeri in aumento si è passati da 186 matrimoni civili nel 2014 a 202 nel 2016 8 le unioni civili celebrate nel 2016 e poi appunto i matrimoni religiosi in diminuzione 85 nel 2014 poi 68 probabilmente sarà 2015 e 58 nel 2016 i divorzi vediamo 50 nel 2015 67 nel 2016 questi i numeri a lato appunto ci sono i commenti c'è il consigliere Franco della Rossa che dice ho unito circa 1300 coppie e poi il wedding planner Luca Bernardis dice eventi costosissimi in luoghi da film lo psicologo Paolo Falconer il mondo sommerso delle coppie di fatto e dice accanto ai matrimoni e ai divorzi c'è un mondo sommerso abitato da quelle coppie di fatto oltretutto genitori che poi si separano senza alcun accordo consensuale sono loro i nuovi poveri ritorniamo adesso in prima pagina e andiamo a scorrere velocemente anche gli altri articoli anche il messaggero veneto riporta per quanto riguarda la politica il risultato delle votazioni nei circoli del partito democratico Renzi doppia Orlando Emiliano sopra il 5% poi anche in questo caso nelle pagine interne tutto l'articolo andando a Gemona vediamo la grande sfilata alpina per i 130 anni del battaglione Gemona grande sfilata alpina per i 130 anni nelle pagine interne ci sono poi tutte le foto e tutto l'articolo andiamo adesso di spalla andiamo a leggere qualche notizia di cronaca ma non solo operazione parchi lavori e più punti di ristoro e questa è la notizia che apre il fascicolo dedicato a Udine e provincia si parla delle iniziative messe a punto dal comune per l'utilizzo e la gestione delle aree verdi cittadine primavera i parchi si rianimano il comune organizza il cormor oltre al chiosco già aperto presto sarà installata una casetta dove cenare o pranzare nei fini settimana e per i più piccoli uno scivolo gonfiabile al Brun la ristorazione e lo svago sono stati affidati al Giangio andiamo adesso anche a vedere anche le altre notizie di cronaca sempre in prima pagina controlli con l'alcol test patenti ritirate e una denuncia raffiche raffica di controlli nel fine settimana da parte dei carabinieri controlli agli automobilisti per quanto riguarda appunto la rilevazione di eventuali casi di guida in stato di ebrezza sette quelli riscontrati dai carabinieri e poi alla festa sul lago spunta la marijuana quattro giovani friulani nei guai due dei quali minorenni andiamo a vedere anche quest'ultima notizia nel taglio basso si parla dei comuni che il prossimo 11 giugno dovranno eleggere il proprio sindaco oggi il messaggero fa tappa a Savogna a quei piccoli comuni in lotta per sopravvivere preone è il paese lilliput di queste consultazioni elettorali con i suoi 266 abitanti ufficiali è il comune più piccolo ad andare alle urne l'11 giugno il comune di Savogna invece non arriva a 400 abitanti e poi per quanto riguarda lo sport andiamo nel taglio alto nella prima pagina del messaggero veneto e vediamo gli articoli dedicati a Udinese e GSA Udinese che rientra da Torino con un punto 2 a 2 fra Torino e Udinese l'Udinese sfiora al colpaccio un bel pari a Torino e poi anche per quanto riguarda la GSA una domenica positiva vince a Ferrara e la salvezza ormai è matematica successo a Ferrara la GSA vince è salvezza matematica resta in A2 e può sognare i playoff scrive il messaggero tra poco con Francesco Pezzella approfondiremo tutte le notizie sportive ma adesso continuiamo la nostra carrellata sui quotidiani locali andiamo con il messaggero veneto in provincia di Pordenone e vediamo subito in prima pagina la notizia di un brutto incidente avvenuto a Clausetto si ribalta con l'escavatore imprenditore grave come detto l'incidente appunto è avvenuto a Clausetto il ferito è Marco Lenardon di 39 anni stava lavorando con questo escavatore quando il mezzo si è rovesciato travolgendolo schiacciato dall'escavatore gravissimo un imprenditore di 39 anni è rimasto incastrato sotto il mezzo con un braccio e una gamba ricoverato a Udine e vediamo appunto le immagini del mezzo che si è rovesciato andiamo a vedere anche l'articolo che apre il fascicolo di Pordenone ecco in primo piano ancora il tema dei migranti nei giorni scorsi avevamo letto le parole del sindaco di Pordenone Ciriani che diceva ai migranti di non andare più a Pordenone ma anche agli altri sindaci del territorio di accogliere dei profughi le minoranze a Ciriani basta alibi dia risposte polemica dopo la lettera aperta del sindaco di Pordenone anche Partito Democratico Fiume Pordenone 1291 Movimento 5 Stelle favorevoli a coinvolgere di più gli altri comuni ma urgono soluzioni anche in città dicono non serve dire ai migranti di non venire chiudiamo anche il messaggero veneto di Pordenone andiamo un salto nel lisontino questa è la prima pagina del messaggero veneto di Gorizia che oggi propone in apertura un viaggio nella giungla tra baracche di rami e rifiuti abbandonati un viaggio nella giungla lungo lisonzo il reportage fotografico del consigliere comunale episcopo la polizia locale a breve partiranno le ronde per i controlli lungo lisonzo chiudiamo anche questa pagina e andiamo a vedere adesso la prima del piccolo di Trieste il titolo doppio lavoro la carica dei 70 mila quando uno stipendio non basta in Friuli Venezia Giulia il 13% degli occupati fa il bis questa è l'apertura e poi a pagina 2 e 3 abbiamo tutto l'articolo con tutti i numeri in Friuli Venezia Giulia il 13% del totale si divide tra due o più impieghi ma negli ultimi anni c'è stata una sensibile contrazione primato regionale degli stacanovisti a Udine prevalgono le donne ma sta salendo la percentuale di maschi e vediamo appunto i numeri che ci raccontano quante persone hanno un doppio lavoro si è passati dai 95 mila del 2001 pari al 17,8% ai 70 mila del 2014 il 13% e così leggiamo anche le prime righe dell'articolo del piccolo di mattina professore e di pomeriggio artista di giorno in bianchino e di sera autista per riuscire a campare un secondo o un terzo impiego regolare o in nero talvolta ed obbligo anzi non solo talvolta ma spesso visto che sono 70 mila i doppio lavoristi del Friuli Venezia Giulia ritorniamo velocemente sulla prima del piccolo vediamo la foto notizia che ci porta sul Sacrario di Redi Puglia transenne a Redi Puglia la tomba del Duca cade a pezzi sul Sacrario malato il Sacrario di Redi Puglia nonostante le promesse cade a pezzi la tomba del Duca d'Aosta è stata transennata perché una delle pietre dei tre gradoni che circondano il monumento si è sbriciolata chiudiamo il piccolo di Trieste ritorniamo un attimo nel Pordenonese con il Gazzettino che oggi apre con il risultato delle votazioni nei circoli del Partito Democratico Renzi PD vince il primo round il leader festeggia e pensa ai gazebo del 30 aprile adesso la vittoria è più vicina scrive il Gazzettino andiamo a vedere anche qualche altra notizia che ci arriva anche dal Veneto per quanto riguarda l'aeroporto di Venezia è stato firmato l'accordo tra Marchi della Save che finora ha gestito l'aeroporto e De Vido entrano i fondi straniere all'aeroporto di Venezia Marchi ha siglato il amico Marchi ha firmato ieri sera l'accordo per l'acquisto del 50% di Finint da Andrea De Vido che uscirà dall'azionariato Marchi ha poi siglato un secondo accordo con i fondi gestiti da Deutsche Asset Management e Infravia Capital Partners per la vendita della partecipazione di controllo di Save a un valore di 21 euro ad azione e poi vediamo anche sul Gazzettino la notizia del barista bolognese ucciso da un rapinatore e caccia al killer scrive il Gazzettino per quanto riguarda invece la cronaca locale a Sacile anziana derubata al market svuotate le carte di credito e poi a Pordenone salute valvole cardiache vietate in ospedale questo articolo poi lo troviamo anche nelle pagine interne andiamo a vedere anche le altre notizie di cronaca intrappolato sotto l'escavatore artigiano grave abbiamo visto prima la notizia anche sul messaggero veneto la marcia della pace a Pordenone un appello per i profughi e infine per quanto riguarda la politica cambi di casacca un vero record il grande salto di 315 parlamentari tra scissioni di partito a D e ripensamenti sono 315 parlamentari tra Camera e Senato che hanno cambiato casacca rispetto al al momento in cui sono stati eletti in Parlamento rispetto quindi all'inizio della legislatura un vero record scrive il Gazzettino andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino si parla di soccorso alpino troppi incoscienti scrive il Gazzettino il coordinatore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia Miorini dice nell'80% dei casi operiamo su terreno medio facile nel 2016 compiute in regione 259 missioni ci sono stati 31 morti e 104 feriti questi i numeri e poi vediamo anche le parole appunto del delegato regionale del del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia Sandro Miorini che dice il suggerimento per ridurre i rischi è quello di non sottovalutare mai neppure il più semplice itinerario e di studiare con attenzione un percorso chiedendo sempre consiglio ai più esperti ascoltando con attenzione le previsioni del tempo con la prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino noi chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa prima di passare la linea a Francesco Pezzella per la rassegna stampa sportiva diamo un'occhiata anche ai principali appuntamenti di oggi su Udinese TV vediamo l'appuntamento con il Tonight questa sera alle 21 la nostra trasmissione di approfondimento del lunedì dedicata all'Udinese in diretta alle 21 dunque e a seguire alle 22 e 30 per gli speciali del TG un'intervista di Francesco Pezzella con Mauro Mazza magistratura e politica l'eterno conflitto questo il tema dell'intervista di questa sera a Mauro Mazza adesso un po' di pubblicità e poi come sempre ampio spazio a tutte le notizie sportive rimanete con noi grazie a tutti